Sì Soviene una parte, e... C'è un concetto, e... ...l'unico, Ecco la parte, ma i mezzi di amore. C'è un po' che ci aspetta sulla patricia... Sì... C'è, è... ...perchè, è un po' che sarebbe inizio... ...vecchio, Beh, io... ...questa era una cosa che pensavo quando andavo a fare un'epoca, perché ero un po' che si chiede, perché ero chiuso da mangiare a me, ma ero un po' di più, e poi provociò dai se ci sono tutti non si deve affermare la mia stagione oh, venga, lo facciamo bene molto forte, vado come me avete sempre forte il volume spagna oh, buono non si deve non si deve provare più come me Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.